Studiare economia non è una passeggiata, c'è tantissimo da sapere, tantissimi dettagli, tante materie diverse che devono dialogare insieme per avere senso. Oggi allora non parliamo soltanto di economia, finanza e investimenti in senso stretto, ma anche di come si studia concretamente l'economia. Ho chiesto una mano ad Alessandro De Concini, amico di data incalcolabile, che una cosa o due sul metodo di studio la sa, visto che ha messo in piedi un'azienda che si occupa proprio di questo, un'azienda che Warren Buffett definirebbe a wonderful business e lo posso dire, visto che vedo i conti, perché faccio pure da CFO part-time. Dai vecchio, me la vendi prima o poi una quota della ADC-SRL, avrai prima o poi bisogno di soldi? No! Eh vabbè, io ci ho provato. Andiamo quindi dritti al punto. Ho cinque domande toste da farti su come si studia l'economia. Partiamo! Benvenuto vecchio, eccoti qua. Eccoci. Allora, partiamo subito con una domanda fondamentale. Allora, c'è tantissima gente che è appassionata dell'economia, magari sente al telegiornale, magari è appassionata degli investimenti, ETF, eccetera. Voglio veramente studiare l'economia, ma sono un cano in matematica. Ai ai. Esatto. Come si fa? Cosa gli diciamo a uno che è appassionato, ma non ce la fa veramente con i calcoli? Allora, Nora, ne abbiamo parlato. La matematica è importante per l'economia, me l'hai confermato tu, lo sappiamo. Assolutamente. Qual è il problema della matematica? Che è sia il suo problema, sia la sua parte più affrontabile. La matematica è una materia incrementale, nel senso che ogni blocchetto di matematica corrisponde al blocchetto su cui costruire il prossimo blocchetto. Ok. Dalle basi verso l'altro. Giustissimo. Quindi, anche confrontandomi con altre persone che hanno studiato la matematica e che hanno avuto a che fare con studenti di matematica, eccetera, emerge chiarissimo che cosa? Che sono le basi il problema. E che se non hai delle basi solidissime, ma addirittura le basi si parla delle operazioni elementari, le frazioni, le proporzioni, quella roba lì, ok, tutto va a catafascio. Magari cinque anni dopo, sei anni dopo. Paradossalmente la matematica che impari alle medie è spesso responsabile del disastro all'università. Allora che cosa bisogna dire? Allora bisogna dire due o tre cose per chi vuole potenziare la matematica. Numero uno, non si può prescindere dalle basi, bisogna ricominciare da zero. Non si può dire, ok, a me non sono capace di fare le equazioni, mi studio le equazioni. Non funziona così purtroppo. Bisogna tornare indietro e assicurarsi di avere molto chiara tutta la progressione incrementale degli argomenti, uno su questo, su questo, su questo, su questo, fino ad arrivare poi alle equazioni. Perché altrimenti il rischio, se no, è duplice. Da un lato quello di buttarsi sull'argomento che non abbiamo capito e non riuscire a superarlo, o dall'altro riuscire a superarlo ma poi salta fuori un'altra difficoltà un mese dopo, perché non abbiamo veramente consolidato le basi. Questa è la prima cosa da dire. Numero due, fondamentale, l'esercizio. La matematica si studia a livello teorico, sì, ma soprattutto bisogna esercitarsi. Mettersi la... Una frase classica che io dico sempre, quando gli studenti mi chiedono quanti esercizi di matematica a fare, io rispondo di più. Eh sì. Perché non sono mai abbastanza. Non sono mai abbastanza. Questo è fondamentale. E terza cosa però, particolare, tra l'altro poi magari continuiamo a parlarne perché è un tema importante, schemi. Ora, chi fa matematica molto spesso sottovaluta questa cosa qui, sottovaluta la schematizzazione. Invece, soprattutto se non si è bravi in matematica, quindi non si è di mestichezza con la materia. Avere degli schemi, non soltanto della teoria, ma anche proprio della risoluzione degli esercizi, di come si risolve un esercizio. Step 1 fai questo, step 2 fai quell'altro. Una bella schema, lo stile principale che consiglierei in quel caso, una mappa concettuale. Molto semplice. Blocco 1, devo fare questo, devo assicurarmi di questi dati, poi scendo, 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 scendo. Avere degli schemi di risoluzione, degli schemi delle dimostrazioni, degli schemi dei teoremi, eccetera, torna veramente molto utile. Uno se li tiene sempre lì pronti e man mano li interiorizza, finché non ha neanche più bisogno di vederli e può direttamente buttarsi sull'esercizio. Questa è una cosa che non è mai stata spiegata a scuola, non averla mai fatta, però effettivamente avere la visivamente giusto, in modo in cui si risolvono le varie relazioni. È importantissimo. E un'altra cosa, avere un po' di, secondo me, l'umiltà di chiedere una mano. Ci sono un sacco di divulgatori di matematica online, io ho parlato con l'ingegner Marcello Dario Cerroni, che è veramente bravissimo, insegna la matematica per gli ingegneri, per cui anche l'economia dovrebbe andare più che bene, ma ci sono canali di YouTube, ci sono professori per ripetizioni, eccetera. È importante, secondo me, se ci si accorge di avere una lacuna che non si riesce a risolvere da soli, andare a chiedere una mano a qualcuno o ispirarsi a qualcuno che si trova online che possa risolverci quell'elemento. Certo, certo. Quindi insomma, oggi tra l'altro che abbiamo tutte queste risorse online, veramente non si può dire di no. Quindi insomma, non avere nessun tipo di buco. Le lacune vanno, si use in qualche modo, esercitarsi tanto e avere degli schemi visivi che diano una mano a capire come si risolvono queste benedettissime operazioni matematiche. Una metafora che mi è appena venuta in mente è che la matematica è come la Jenga, hai presente il gioco Jenga, con i legnetti. Sì, sì, sì. È così. Se tu togli i legnetti, dai dei buchi, non sai dove sono quei buchi. Magari sono buchi della prima superiore. Certo. Ma fa traballare tutto finché non va giù. Non hai chiaro. Non assicurarsi di ricostruire la torre dalle fondamenta. Certo, certo. Quindi insomma, le fondamenta, tutte queste cose qua, le basi, esercizi fondamentali, tutte queste cose qua devono essere fatte bene. Ecco, a proposito di schemi visivi, no? L'economia è una scienza, se si può chiamare scienza, che ha una serie di branche. Quindi si va alla contabilità, alla finanza pura, all'economia, alla storia dell'economia, al management, al marketing, veramente un sacco. Alla fine annale si studia tutto. Quindi, come si fanno gli schemi per questo tipo di materie? Un qualche cosa che possa essere usato più o meno su tutto, esiste? Ecco, allora qui c'è un grande fraintendimento. Nel mondo degli schemi, per portare acqua al proprio mulino, ogni autore dice il mio tipo di schema è lo schema perfetto. E si usa quello schema lì. Allora, abbiamo Tony Buzan, che ha inventato le mappe mentali, che ti direbbe mappe mentali per tutta l'economia e si vola. Abbiamo Joseph Novak, che ha inventato le mappe concettuali, che ti dice mappe concettuali perfette per l'economia, eccetera. Ci sono quelli degli schemi lineari, quelli delle tabelle, ce ne sono di tutti i tipi. La verità qual è? La verità è che a fare la differenza nel metodo di studio è la rielaborazione. La rielaborazione è l'atto del trasformare quello che abbiamo imparato e riadattarlo secondo il nostro modo di pensare, sintetizzarlo e renderlo anche poi fruibile per le altre fasi del metodo di studio. Fare uno schema è il modo più efficiente di rielaborare, ce ne sono anche altri. Uno può anche riscrivere un libro e rielaborare anche quello, solo che ci mette più tempo, no? Lo schema è il più efficiente del modo di rielaborazione. E un'altra grande verità che emerge dagli studi scientifici in merito è che non esiste lo schema perfetto. Non c'è. Non è vero che la mappa mentale è meglio della mappa concettuale, ma non è vero neanche che la mappa concettuale è meglio della mappa mentale. Sono schemi diversi e vanno applicati ad argomenti diversi e a persone diverse. Certo. E qual è il problema dell'economia? Il problema dell'economia è che è una delle materie più varie in subito. Dunque, non si può pensare di approcciare l'economia con una sola tipologia di schematizzazione, perché mancano dei pezzi. Per esempio, se io invece studio lettere, posso andare avanti con le mappe mentali e fare solo quelle. Quasi tutte le materie sono discorsive, descrittive, uso la mappa mentale e siamo a posto. Ma in economia abbiamo magari un esame di storia dell'economia, dove posso usare le mappe mentali, abbiamo un esame più tecnico, dove devo fare degli schemi lineari, abbiamo un esame procedurale, dove la mappa concettuale è migliore. Bisogna conoscere tutto. Allora, le tre tipologie principali sono schema lineare, mappa mentale e mappa concettuale. Lo schema lineare per le materie e gli argomenti più tecnici. Quindi se devo descrivere, che ne so, il funzionamento di un'azienda, devo descrivere dei passaggi matematici, la risoluzione di un problema, eccetera, eccetera. Schema lineare. Per tutte le materie discrittive e più, come dire, di ragionamento, la mappa mentale va benissimo. Per filosofia dell'economia, per storia dell'economia, ma anche per concetti macroeconomici, per esempio. Cioè, lì la mappa mentale è un'ottima strategia. Per invece le procedure, che ne so, come funziona una riunione di un consiglio di amministrazione, se può uno fare questo, questo e quell'altro, la mappa concettuale a quel punto, a blocchi, funziona molto bene. Ho capito. In più, non dimentichiamoci, tabelle, formulari, linee del tempo, schemi quindi complementari, che possono essere utilissimi nello studio dell'economia. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi per le materie tipo statistica, materia finanziaria, lineare, giusto per avere appunto capire come... La mappa mentale di statistica non si può venire. Non si può, esatto, è impossibile. Quindi bisogna adattarsi al tipo di materie. Non esiste uno schema che vada bene per tutti, ma bisogna per ogni materia diversa, perché ce ne sono effettivamente in economia, che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Andiamo dal diritto commerciale alla statistica, e quindi a ognuno il suo. Non bisogna credere che esista la panacea di tutti i mali. Non funziona così, non c'è lo schema perfetto. Per di più, a maggior ragione, in una materia complessa come economia, che ha tutte le sfaccettature del mondo. Certo, certo. Assolutamente. E ecco, una cosa che si vede tantissimo in economia, specialmente per le materie tipo management, diritto, eccetera, sono questi lunghi elenchi. Chiunque cominci economia, si trova manuale di gestione delle imprese, economia aziendale, che è un mattonazzo da 600 e passa a pagine, e si ritrova il management dovrebbe fare così. E lì dice, no, io questo non lo vado. Non me lo riparo. E poi viene chiesto, e poi viene chiesto al dettaglio, è un professore pignolo, come non so cosa aveva scritto lui il libro, e voleva l'elenco, come l'aveva scritto lui, eccetera, eccetera. Quindi là bisogna imparare sulle moni, e accendere la pasta. Che tecniche si possono usare? Allora, 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 il punto è questo. Intanto, apriamo una parentesi, a cosa serve imparare a memoria e robe senza capire? Beh, non importa. Io lo paragono al Matrix, l'avevo detto anche nell'altro video, ti sparano dentro le informazioni, vabbè, insomma. Non importa, comunque bisogna farlo. Esatto, bisogna farlo. Allora, di sicuro, leggi e ripeti, è la strada più lunga, è più difficile, ok? Quindi, per carità, se tu prendi un elenco, e lo rileggi 70 volte, alla 71esima lo sai. Ok? Ma l'ho fatto io. Esatto, quindi, cioè, la ripetizione funziona. Qual è il problema? È che è stressante, è che è lunga, è faticosa, è ripetitiva, è frustrante. Quindi, funzionare funziona, ma è inefficiente però, ok? Certo. Quindi noi non vogliamo usare la ripetizione. Allora, questi casi, dei lunghi elenchi, sono alcuni dei pochi casi, pochi casi, non più che pochi circoscritti casi, in cui le tecniche di memoria, ok, sono veramente un aiuto importante per gli studenti. Ora, il mondo delle tecniche di memoria è così fatto. La tecnica di memoria, e io faccio sempre la metafora, è un cacciavite, cacciavite a stella. Non è che tu tutto il giorno usi il cacciavite a stella a casa, ma è importante averlo a casa, perché quella volta che ti serve, o ce l'hai, o non si svita qualcosa, d'accordo? Certo, certo. Le tecniche di memoria sono così. Non è detto che tu le usi sempre, magari le usi ogni tre esami, quattro esami, ma quella volta che ti servono, devi averle. Eh sì. E allora, la tecnica in particolare, più utile per elenchi del tipo di quello il palazzo della memoria, di ciceroniana memoria. Te la faccio in breve, ho fatto anche dei video in merito. Fondamentalmente si trova una parola chiave che si può convertire in un'immagine per ciascuna voce dell'elenco, ok? E quella sarà la parola che noi memorizzeremo. Dopodiché ci si immagina un percorso all'interno delle stanze della nostra casa, o un percorso tipo da casa all'università, da casa al lavoro, eccetera, eccetera. E per ciascuna tappa del percorso, quindi la cucina, l'ingresso, il salotto, eccetera, eccetera, percorsi sempre nello stesso ordine, nella nostra mente, si inserisce quella parola. Faccio un esempio, se io devo ricordare, dimmi una parola di un elenco di management o di qualche cosa che io potrei voler ricordare. Return on equity. Ok, return on equity. Mi fa venire in mente, ritorno, mi fa venire in mente qualche cosa che gira, una sorta di cosa che gira, una ruota che gira, equity, equità, mi fa venire in mente, non lo so, un hippie che chiede l'equità, quelle cose lì. Ora mi immagino questo cerchio che gira dentro l'ippie, che rappresenterà il mio return on equity. e lo devo memorizzare come prima voce del mio elenco. Allora mi immaginerò di all'ingresso di casa aprire la porta di casa e venire colpito da questo coso che gira, che ritorna continuamente, con in mezzo l'ippie che chiede l'equità per tutti. Ovviamente lo stereotipo, è per far capire velocemente. Visualizzo questa informazione e quando dovrò recuperare il mio elenco, mi basterà ripercorrere il percorso nella mia stanza e troverò dentro return on equity. posso fare anche degli acronimi, ROE mi può far venire in mente, ROAR mi fa venire in mente tipo il verso del leone, posso immaginarmi invece dell'ippie che gira, posso fare mille giochi di parole. Ok, l'importante è che io trovi per ciascuna voce una rappresentazione mentale univoca che io posso visualizzare all'interno di un locus, di uno spazio, uno spazio che conosco e che è inserito in un percorso con un ordine ben preciso. So, sì che io poi, ripercorrendo il percorso, posso ritrovare i vari pezzi. Questa è la tecnica che usava banalmente Cicerone per impararsi a memoria i discorsi. D'accordo? Lui semplicemente immaginava la strada da casa sua al foro e ad ogni tappa la colonna, la strada, il negozio, il baracchino, eccetera, ci metteva un pezzo, una parola chiave della sua orazione e poi ripercorrendo la mente si ricordava le cose da dire. Funziona molto bene. L'unico problema di questa tecnica, problema fino a un certo punto, oltre a avere bisogno di un po' di tempo per essere imparata, è che bisogna avere molti loci se abbiamo tanti elenchi perché se è un elenco solo, ok, se io devo memorizzare per un esame 50 elenchi, devo avere 50 percorsi pronti e quindi questo richiede un po' di tempo, un po' di preparazione ma insomma è una tecnica veramente che si impara in fretta e che funziona veramente molto bene. Certo. Ecco, quindi abbiamo detto non ci possono essere schemi che vanno bene sempre uguali. Per tutto, bisogna usare delle tecniche per impararsi quegli elenconi che ogni tanto vengono fuori, un'altra cosa però è materie così diverse come si fa per prendere appunti per cose così. Ecco, allora intanto ti correggo subito. Una delle cose su cui insisto è che il termine proprio prendere appunti è un termine che di fatto crea confusione nonostante sia così tanto diffuso perché implica la passività. Prendere gli appunti. È vero. Io parlo di produrre appunti perché il focus deve essere quello dell'attività e allora in questo caso sicuramente si deve produrre appunti creare appunti costruire appunti qualche cosa che ponga il protagonista lo studente che deve andare a fare non prendere da qualcun altro stai scrivendo un libricino tuo praticamente sei tu che stai producendo un materiale stai in verità scrivendo appunti producendo appunti è bella questa cosa infatti io cerco sempre viene naturale di riprendere appunti perché l'abbiamo detto sempre però cerco di anche nel linguaggio continuare a ripetermelo ecco c'è un metodo che è il metodo di creazione di appunti più diffuso al mondo funziona veramente molto bene si chiama metodo Cornell metodo molto semplice si tratta fondamentalmente di dividere il foglio in due parti ok una parte più grande sulla destra e centrale del foglio bella piena dove scrivere i propri appunti sotto forma di parola chiave e di schema abbozzato quindi non si scrivono le frasi non si trascrive quello che dice l'insegnante non si sbobina non si fa il dettato ma si scrivono parole chiave si fa la freccia si fanno le caselle si abbozza uno schema fondamentalmente e sulla parte sinistra del foglio su questa colonna un po' più piccola si mettono note e domande questo è molto importante perché perché mentre scorre la lezione e anche subito alla fine della lezione c'è anche magari uno spazio in basso si può mettere per un breve sommario finale si sta attenti a quali domande potrebbero venirci poste su quegli argomenti e allora contemporaneamente mentre si ascolta la lezione e si appuntano appunto gli appunti appunto bellissimo gioco di parola fatta ci si segna anche che domande potrebbero essere poste e quindi in questo modo si fa un doppio lavoro innanzitutto si fa un lavoro metacognitivo di ragionamento sul ragionamento cioè vado a capire anche quali saranno i punti fondamentali da studiare poi ma soprattutto si creano degli agganci queste domande che poi saranno elencate sulla parte sinistra del foglio che io potrò comodamente andare a rileggere in un secondo momento e richiamare alla mente gli appunti in questo modo quindi io leggo la domanda e richiamo la risposta questo è già un principio tra l'altro di testing che è una delle attività più importanti per lo studio efficace e funziona veramente molto bene quindi il mio consiglio è le materie sono molto diverse impossibile impostare in diretta uno schema perfetto con tutti i crismi colorato eccetera non c'è il tempo non funziona così allora mi divido il foglio a metà da una parte mi metto lì e scrivo le mie parole chiave ben organizzate sempre cercando di dare una struttura gerarchica quindi non si scrivono parole buttate lì sul foglio ma le si correla con delle frecce delle caselle eccetera sulla parte invece sinistra una bella colonna con domande domande che posso compilare durante la lezione o dopo magari finita la lezione mi prendo 5 minuti per fare il punto della situazione buttare giù un piccolo riassuntino e farmi una lista di domande che mi saranno utilissime poi anche quando andrò a studiare sul libro quegli argomenti perché saprò già è vero a cosa voglio sapere la risposta chiaro non solo ma se sto attento a come l'insegnante insegna ho anche già un insight su come sarà l'esame perché generalmente l'insegnante va a battere a lezione su quelli che sono i tecnici che gli interessano di più eh sì per forza allora se io già preparo le domande prima sarà molto più probabile che siano domande analoghe quelle che poi mi capiteranno all'esame quindi funziona alla grande un metodo estremamente intelligente per diciamo imparare e al tempo stesso anche avere un occhio all'esame non arrivare lì avendo magari studiato cose che non c'entrano niente che il professore non sa neanche che ci siano oppure è lasciato per ultime vai a focalizzare ma invece essere nelle cose importanti certo metodo Cornell è una bomba metodo Cornell ottimo ecco come si può migliorare la capacità logica questa è una cosa che allora la logica è fondamentale in economia non è una scienza secondo me l'economia è veramente è una scienza sociale diciamo qualcosa di estremamente applicato all'attività economica alla vita reale però se c'è una cosa che secondo me vale per qualsiasi materia economica è la logica meccanicistica cioè devo capire come funzionano gli schemi economici che si parli di finanza di management o di contabilità quindi una persona che ha difficoltà nella diciamo nella nell'esecuzione logica che possibilità ha di migliorare su questo fronte allora ci sono due elementi che sono molto interessanti su questo innanzitutto chi ha difficoltà con la logica ha maggior ragione deve fare quello che dicevamo prima la schematizzazione è imperativa perché che cosa vuol dire schematizzare vuol dire asciugare i concetti sintetizzare comprimere e metterli in ordine mettere in ordine vuol dire esplicitare la logica che c'è dietro per cui se non sono in grado di schematizzare un argomento non sarò certamente in grado di comprendere la logica di fondo questo è molto importante impadronirsi della capacità di arrivare alla sintesi dei concetti e metterli proprio in ordine questo causa questo a causa di questo succede quello questo è correlato con quest'altro esplicitare proprio la struttura che li lega quindi la schematizzazione è importante un'altra cosa importante però è il disegno è una cosa incredibile ma questo ti torna fuori anche molto quando si sono nei test di ingresso nelle facoltà o nei concorsi pubblici test di logica il fatto di disegnare e esplicitare e esplicitare quello che succede anche proprio con il disegnino per esempio c'è un gruppo di investitori che fa questo allora disegnare proprio cinque omini e dire questi fanno questo e questi altri fanno quest'altro trasformare l'informazione in qualche cosa di visivo sfrutta un principio che viene chiamato dual coding quindi doppia codifica dell'informazione codifica verbale codifica di immagine ok quindi visiva e questo aiuta a ragionare aiuta a eliminare dal ragionamento logico la parte di memoria fondamentalmente perché la vedo sul foglio e posso concentrarmi solo sulla relazione questa è una cosa che torna molto utile quindi schematizzazione e disegno è fondamentale non solo ma poi c'è un altro elemento la ricostruzione se vogliamo davvero essere sicuri di esserci impadroniti di una logica di base dobbiamo essere in grado di ricostruire il ragionamento anche al contrario e allora un esercizio che torna molto utile dopo aver studiato un certo fenomeno è provare a ricostruirlo all'indietro quindi partire dalla fine che cosa è successo? è successo inflazione va bene? certo torniamo alle cause ok perché inflazione? esatto perché è successo questo e perché è successo questo e quindi fare il ragionamento sia da un lato che dall'altro che è proprio il tipo di logica tra l'altro che si ritrova nell'economia esatto perché altrimenti il rischio è quello di imparare a memoria la logica non so se mi spiego cioè la fai sempre nello stesso senso ma poi se il senso è contrario oppure se si parte non dall'inizio ma da un pezzo dopo vai in panico invece se ti alleni a ricominciare dall'inizio o dalla fine o magari da un punto in mezzo ok c'è della disoccupazione cosa potrebbe succedere? potrebbe succedere questo potrebbe succedere quello in quel caso è successo questo perché c'è stato questo fattore quindi abituarsi a vedere i processi logici non come degli algoritmi che vanno in una sola direzione ma come in più direzioni e anche poterli prendere da un mezzo o da parti centrali bellissimo molto molto bella questa cosa è molto utile assolutamente utile e ti dà una visione anche più operativa dopo perché poi capisci davvero che cosa è successo lo vedi come un problema che si può scomporre e vedere da più punti di vista molto utile vedo tra l'altro con diciamo così bene che diciamo alla base di tutto spesso c'è mettere giù visivamente le cose giusto? cioè proprio che il cervello apprenda da un punto di vista visivo sai che cosa non è solo l'apprendimento visivo che sicuramente c'è c'è un influsso della memoria visiva eccetera eccetera è che nel mettere su carta qualche cosa o su schermo se uno usa un ipad o quello che è succedono due cose da un lato proprio l'atto del disegno attiva certi percorsi mentali che se no non si attiverebbero ma dall'altro è proprio come se scaricassimo la memoria di lavoro nel senso che non dobbiamo più tenere a mente gli elementi ma li dobbiamo semplicemente usare perché li abbiamo davanti a noi è come dire è facile fare le somme a mente certo se io devo sommare però sei numeri a mente ok devo tenere a mente i numeri e poi sommarli se ce li ho scritti sul foglio li seguo posso occuparmi solo dell'operazione e non del tenere a memoria i vari elementi quindi il mettere sul foglio aiuta l'apprendimento e scarica la memoria in modo che si possa occupare esclusivamente poi della relazione tra gli elementi non del tenerli in bilico come se fosse un giocoliere certo certo oltre ci si incasina ci si incasina semplicemente perché ci non riesci a tenere a mente tutto esatto e poi vado esatto e l'aspetto visivo in questo caso aiuta veramente un sacco molto bene molto bene quindi direi che i nostri 5 punti li abbiamo fatti 5 li abbiamo fatti sul canale 5 metri ti lascio il tuo copione esatto adesso devo tornare torna al copione io resto qua io guardo la telecamera torna al copione quindi vediamo un po' allora abbiamo il copione è comunque una grande invenzione è una grandissima invenzione altrimenti non riusciremo mai a fare tutto chiaramente questo da soli quindi allora un'idea più chiara come si studia l'economia ce la siamo fatta se volete sentirmi rispondere alle domande che ADC invece mi ha posto piondatevi sul suo canale dove troverete la prima parte di questo video ma nel frattempo iscrivetevi subito al canale dai che siamo appena partiti abbiamo bisogno di persone per far crescere l'attività e poi tra l'altro se volete capirne qualcosa di come funziona l'economia di quei termini economici e paroloni che vengono sparati in giro scaricatevi il mio dizionario gratuito dei termini finanziari investi come mangi trovate il link qui sotto io l'ho letto posso testimoniare che non avevo capito per esempio lo spread l'ho letto e ho capito che cavolo era lo spread perfetto non si capisce mai e l'obiettivo è che veramente termini finanziari economici che vi sembrano complessi diventino banali questo è il target io sono Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video